per sordi. È morto sulla 1 tra Calenzano e Firenze Nord il conducente di un tir che ha sbandato e ha preso fuoco dopo essersi ribaltato in un incidente avvenuto verso le 2.30. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, l'autista, un uomo di 50 anni, è rimasto incastrato ed è probabile che il decesso sia avvenuto già dopo il forte impatto contro la barriera centrale e il conseguente rovesciamento del mezzo in un terrapieno dopo aver sfondato il gun rail dalla parte opposta. Il tir è di una ditta del napoletano. A causa dell'incidente che è avvenuto sul rettilineo in carreggiata a sud, la 1 è stata chiusa con uscite obbligatorie per circa un'ora, poi è stata riaperta. Riguardo alle cause, al momento si ipotizza come verosimile il malore o un colpo di sonno. è stato condannato a 18 anni di reclusione con rito abbreviato Marco Casonato, 63 anni, ex docente universitario di psicologia a Milano, accusato di aver ucciso il fratello Pietro, 59 anni, medico, l'11 novembre 2017, travolgendolo con l'auto al culmine di una lite per questioni legate a Villa Massoni a massa storica dimora di proprietà dei due fratelli. Il PM aveva chiesto una condanna a 20 anni di reclusione. L'uomo era presente in aula alla lettura della sentenza. È evaso dai domiciliari per vedere in tv la squadra del cuore, la Juventus, al bar vicino a casa, ma è stato subito arrestato dalla polizia che proprio in quel momento stava facendo un servizio di controllo. A raccontare l'accaduto alla stessa polizia, protagonista un quarantenne pistoiese che è comunque poi tornato agli arresti a casa dopo il processo per direttissima. Secondo quanto spiegato martedì sera gli agenti durante il controllo non hanno trovato nella sua abitazione l'uomo ai domiciliari per reati contro il patrimonio. Sarebbe stato il padre del quarantenne a riferire alla polizia che il figlio si trovava al bar per vedere Cagliari-Juventus. E così in effetti era. La polizia l'ho trovato al locale che stava guardando la partita. Il quarantenne è stato portato in questura e arrestato per evasione, venendo comunque poi rimesso ai domiciliari. Sarebbe andato a rubare in una casa a Firenze, furto poi trasformatosi in rapina a riento della proprietaria spostandosi a bordo di un bus di linea. L'uomo, un 45enne georgiano, è stato identificato dai carabinieri proprio grazie al biglietto del bus ATAF usato per il viaggio sul mezzo pubblico dimenticato nell'abitazione. Così per lo straniero, al momento già detenuto per altri reati, è scattato un nuovo arresto. Avrebbe agito con un complice, anche lui destinatario di misura cautelare, ma al momento latitante. La magistratura non deve mai farsi suggestionare dalla pressione che può derivare dal clamore mediatico e dalla spinta emotiva di un presunto sentimento popolare. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno formativo 2019 della Scuola Superiore di Magistratura a Castelpulci a Scandicci. Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia, parlando a margine della cerimonia, ha detto condivido le parole del Presidente Mattarella che, come al solito, invita i magistrati a svolgere il loro ruolo che è fondamentale non solo per la giustizia, ma per la nostra democrazia, con la giusta sobrietà e il giusto equilibrio. Via Libera del Cipe al progetto della linea 4 del sistema tranviario di Firenze, che collegherà la stazione Leopolda con le piagge. Lo rende noto alla Regione Toscana, rilevando che con questa decisione compie un ulteriore e decisivo passo in avanti il progetto di dotare l'area metropolitana fiorentina di una rete di infrastrutture a livello europeo, che punti sullo sviluppo della intermodalità e della mobilità dolce. La nuova linea aumenterà, si spiega, la capacità di servire aree a forte carattere produttivo e collegherà i più importanti centri urbani del sistema metropolitano. Iniziano a fumare già a dieci anni e nella fascia d'età tra i 13 e i 15 anni fuma sigarette tradizionali un ragazzo su cinque, mentre si registra un boom per le sigarette elettroniche utilizzate dal 18%. Sono alcuni dei dati raccolti in un'indagine che coinvolge 180 paesi sull'uso del tabacco tra i giovani. L'indagine è promossa dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e si svolge ogni quattro anni. Jeff Koontz, accademico d'onore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara. Il titolo sarà conferito all'artista in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della fondazione dell'Accademia, in programma il 16 aprile alle ore 17 nell'Aula Magna della stessa istituzione. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse al mattino sulle zone settentrionali dal pomeriggio velato venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature minime stazionarie o in lieve calo nei fondovalle localmente fino a zero gradi, massime insensibile aumento. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci.